Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al Senato della Repubblica. Io sono fiera di nuovo oggi di parlare di un tema che mi sta molto a cuore, che ci sta molto a cuore, che è il sistema di emergenza urgenza 118. È una battaglia che portiamo avanti da tempo, devo dire insieme al Presidente Zaffini già dalla scorsa legislatura, quando durante la pandemia è apparso chiaro a tutti come fosse un'urgenza intervenire e riformare un sistema che in realtà ha bisogno di una riforma ormai da 40 anni. Qual è la nostra visione e quali sono i punti che secondo noi vanno trattati? Intanto valorizzare sempre di più il personale che opera all'interno del 118, i medici, gli infermieri, gli autisti soccorritori. È chiaro a tutti che più di tutto il personale sanitario è a rischio di aggressioni, tanto da averci spinto nella scorsa legislatura, come sapete, ad approvare un disegno di legge proprio per prevenire le aggressioni al personale sanitario e prevedere la procedibilità d'ufficio e le pene aggravate per chi aggredisce personale sanitario. Questo purtroppo vediamo anche oggi dai numeri delle aggressioni non è stato sufficiente, ma quella è la direzione da seguire e soprattutto valorizzare sempre di più il personale che decide di continuare a lavorare nell'ambito dell'emergenza urgenza. È anche chiaro a tutti come questo sistema vada integrato sempre meglio all'interno del servizio sanitario nazionale e come si debba creare una continuità tra pronto soccorso, emergenza urgenza territoriale e una continuità tra il sistema 118 e la riforma della medicina territoriale che è in corso anche grazie agli investimenti previsti nel piano nazionale di riprese e resilienza. Io però mi fermo qui in questo intervento che vuole essere soprattutto un saluto e un ringraziamento intanto a tutti gli operatori che con coraggio non hanno abbandonato questo sistema. Oggi sappiamo che è molto più semplice scegliere di fare il medico gettonista, guadagnare molto di più e scegliere che tipo di turni fare piuttosto che lavorare su un'ambulanza o all'interno del 118. Quindi ringrazio soprattutto gli operatori, ringrazio il presidente Balzanelli, ringrazio tutte le sigle e le associazioni che in questi anni hanno lavorato al nostro fianco portando la voce di tutti voi operatori. E un ringraziamento particolare ai miei colleghi che sono qui, il senatore Lisei e il presidente della Commissione Sanità, il senatore Zaffini, che ringrazio anche per aver calendarizzato questi disegni di legge e quindi per aver avviato in discussione la fase di discussione proprio nella Commissione Sanità. Magari questa è la legislatura giusta in cui finalmente questa riforma si farà. Io annuncio, non so se è una minaccia o un annuncio, ma dalla prossima settimana tornerò in Commissione Sanità. Quindi, presidente, sarò al tuo fianco per concludere e per portare avanti questa discussione. Grazie a tutti. Do la parola al presidente Zaffini che poi deve andare perché è convocata la Commissione. Sì, beh, diciamo che abbiamo un programma di lavoro abbastanza molto intenso nella Commissione. Ricordo che la Commissione per effetto della riduzione del numero di parlamentari ha assunto materie veramente complesse, lavoro pubblico, lavoro privato, affari sociali, previdenza sociale, sanità. Nell'ambito della programmazione dei lavori di Commissione abbiamo ben chiara la consapevolezza dell'urgenza di questo tema che peraltro c'è, sul quale peraltro col presidente Balzanelli ci siamo già confrontati più volte. Devo dire che il governo ha già lavorato e sta lavorando ulteriormente al tema dell'emergenza e urgenza che si va inquadrato correttamente nel tema generale delle professioni sanitarie. Il principale argomento che ci richiama tutti a una urgente diversa regolamentazione di questo segmento della nostra assistenza sanitaria nazionale è appunto la necessità di mettere in sicurezza chi lavora nel nostro sistema dell'emergenza e urgenza e soprattutto consentigli di lavorare con ritmi diversi e possibilmente essendo pagato meglio. Sono intendimenti che io vi lascio. Insieme a Mariolina ci siamo scontrati, ci scontriamo tutti i giorni su tante cose, però riconosco e sono anche felice che lei decide di tornare in Commissione Sanità, siamo stati insieme in Commissione Sanità nei cinque anni in cui io ero l'unico di opposizione, loro erano maggioranza, diciamo che tante cose potevano già averle fatte in quei cinque anni. Questa è una piccola battuta, lasciatemela perché prima di pranzo ve la regalo. Però adesso le faremo noi. Ecco, l'intendimento c'è, insieme a Mariolina lavoreremo per dare presto risposte. Chiudo descrivendo quella che è la mia idea dell'emergenza e urgenza. L'emergenza e urgenza è l'anello di congiunzione tra territorio e ospedale. E in questo c'è il nocciolo del problema, cioè non è né territorio né ospedale però, è l'anello di congiunzione ma oggi non è né di qua né di là. E su questo probabilmente è l'origine dei mali e su questo dovremo lavorare appunto a un nuovo inquadrimento e a una diversa regolamentazione. Lo faremo, lo faremo insieme e lo faremo dentro questa legislatura, ve lo prometto. Grazie. Grazie al Presidente Zaffini. Prima di passare agli interventi tecnici lascio la parola al Senatore Lisei per un saluto. che ringrazio di essere qui. Grazie. In realtà io sono un imbucato della sanità perché sono in prima commissione e quindi non ritornerò nella commissione sanità e non andrò in commissione sanità però diciamo che con alcuni amici che vedo presenti in sala abbiamo fatto tante battaglie in Regione Emilia-Romagna per tutelare il comparto dell'emergenza e urgenza proprio perché abbiamo la forte consapevolezza, la forte consapevolezza che è un comparto che si sta sempre più impoverendo di figure professionali e le figure professionali esistenti, diciamo alcuni governi delle regioni cercano di rimediare sostituendo le figure esistenti con altre metodologie di lavoro che in realtà pongono a rischio la salute dei pazienti e mettono a rischio il personale dell'emergenza e urgenza perché ovviamente si trovano ad operare in condizioni più difficoltose e quindi ovviamente espongono anche la propria responsabilità nei confronti di quegli interventi questo è chiaro che nel momento in cui su dei territori appenninici, su dei territori anche spesso distanti da loro c'è soltanto un'ambulanza, il personale è ridotto all'osso è evidente che i cittadini non hanno il servizio che dovrebbero avere e non sempre si può sostituire o si può pensare di scaricare sul personale infermieristico scelte che appartengono al personale medico che le fa magari da remoto senza avere il paziente sotto gli occhi questo per noi rappresenta e per me rappresenta una grave criticità perché si affianca ovviamente a poche tutele dal punto di vista economico ma io credo che sul punto della responsabilità e sul punto della garanzia che sul territorio siano coperti in maniera decorosa su questo ci sia molto da fare su alcuni temi il governo è già intervenuto ovviamente non riguardano il sistema fuori dall'ospedale ma riguardano prevalentemente il tema dei pronti soccorsi che però rappresenta comunque un comparto dell'emergenza quindi cercando di intervenire sulla parte stipendiale aumentando qualcosina che sarà e comunque sempre poco sul tema delle aggressioni ai medici anche su questo c'è stato un intervento che è importante perché l'aumento delle pene e cercare di prevenire le aggressioni che comunque sono state in aumento tra il 2021 e il 2022 è uno degli strumenti che ovviamente ha il governo per cercare di prevenire non è chiaramente l'ultimo perché anche all'interno delle strutture poi diciamo le regioni e chi gestisce la sanità a livello territoriale deve poi creare le condizioni perché certi episodi non si verifichino tra queste condizioni ovviamente ci deve essere magari le guardie giurate magari del personale che può intervenire in determinate situazioni così come evidentemente ci devono essere anche le situazioni di serenità che consentono poi e che evitino che i pazienti o chi acceda a un servizio non si arrabbi perché chiaramente quando uno aspetta 36 ore in un pronto soccorso come è accaduto a Ravenna l'anno scorso è evidente che ci può essere qualcuno che si nervosisce dopo un po' quindi la situazione del comparto sanitario è una situazione di profonda crisi la volontà di questo governo di intervenire credo che ci sia e sia stata dimostrata dai primi provvedimenti è chiaro che questi non possono essere esaustivi non saranno esaustivi come non sarà esaustivo chiaramente il rinnovo del contratto collettivo del comparto che comunque porterà anche questo qualche beneficio retributivo ma una riforma che riguardi ad hoc il comparto dell'emergenza urgenza è sicuramente necessaria sono certo che la commissione competente saprà tra virgolette fare una sintesi dei vari testi che sono stati depositati dai gruppi e credo che quella sintesi non sarà una sintesi a ribasso ma che sicuramente porterà delle tutele maggiori rispetto a quelle che sono attualmente in campo questo è un segno di rispetto nei confronti di voi operatori ma credo che bisognerebbe comprendere che è un segno di rispetto nei confronti della cittadinanza perché chi interviene in emergenza urgenza salva delle vite con pochissimi strumenti e quindi la tempestività, la qualificazione degli operatori, la serenità del personale lavorativo fa la differenza nell'evento morte e su questo dobbiamo esserne tutti molto consapevoli io vi ringrazio, ripeto sono un imbucato quindi ero venuto solo per fare un saluto però vi ringrazio per quello che fate tutti i giorni Grazie, ringrazio il senatore Lisei e presidente spostiamoci più al centro quindi partiamo con gli interventi di chi effettivamente conosce il mondo dell'emergenza urgenza perché lo vive tutti i giorni dall'interno come operatore ci sono sei interventi programmati e abbiamo 50 minuti quindi direi 6-7 minuti ad intervento lo dico soprattutto al presidente Balzanelli che sicuramente ha un po' di difficoltà nel fare sintesi però presidente a te la parola, grazie Allora buongiorno, il mio profondo ringraziamento alla senatrice Castellone e ancora una volta dimostra di essere con noi col mondo del sistema di emergenza territoriale 118 ripresentando quest'oggi insieme al senatore Zaffini presidente della commissione sanitaria del senato che ringrazio in quest'aula per discutere su quello che serve alla cittadinanza perché noi siamo centrati sui bisogni della comunità salvare vite, questo è il nostro obiettivo in un contesto tempo dipendente ci sono oltre 7 milioni e mezzo di richieste di soccorso quasi 4 milioni e mezzo, 5 milioni di interventi che facciamo siamo la rete delle reti dei sistemi complessi siamo il sistema tempo dipendente considerate che ogni minuto in cui noi tardiamo su un arresto cardiaco si riducono del 10% le probabilità che qualcuno muoia ogni minuto di ritardo si riducono in modo impressionante in corso di stroke i neuroni muoiono per ogni minuto che passa quasi 2 milioni di neuroni se non si riperfonde quel cervello il sistema complesso tempo dipendente che deve essere rivisso strutturalmente reso omogeneo per quanto per la riforma del titolo quinto le regioni potranno fare le loro personalizzazioni ma le architravi devono cambiare il primo paradigma dobbiamo conservare la possibilità che i cittadini accedano direttamente al sistema dell'emergenza quando stanno per morire come sancito dalla legislazione europea come confermato dal regolamento della commissione europea del dicembre del 2022 che dice che la chiamata deve essere indirizzata immediatamente alla centrale operativa più appropriata e quindi come confermato dai nostri dati l'accesso diretto evita perdite di tempo potenzialmente catastrofiche e questo lo sancisce anche tutta la comunità scientifica continentale dallo studio di European Resurrection Council l'Eurocall Study del 2016 alle guideline del 2021 bocciano il modello in cui il 112 sostituisce i numeri di emergenza nazionali dei vari paesi membri è un modello bocciato l'allarme target si allunga e in questi minuti muoiono precipitano innumerevoli vite un sistema è per complesso questo DDL, il DDL Castellone riconosce al 118 il più elevato grado di complessità che il legislatore conferisce ad una struttura sanitaria il massimo livello è quello dipartimentale il DDL Castellone riconosce il rango di dipartimento quale macrostruttura del territorio al sistema 118 e lo incardina proprio come macrostruttura del territorio a livello provinciale siccome nasce col DPR del 27 marzo del 1992 vedendo per ogni provincia la necessità che ci sia un centro direzionale una centrale operativa peraltro ci sono tutti i fondi per l'Europa per l'alta tecnologia che danno garanzie e sicurezza la Covid-19 ci ha dimostrato che cosa significa aver ridotto in modo scellerato le centrali operative quando c'è stato un iperafflusso improvviso di richieste di soccorso che cosa si è verificato e invece è lungimirante guardare all'indietro per andare avanti nel modo migliore ogni provincia deve avere una centrale 118 anche perché avremo con la declinazione della riforma del territorio quindi con la riforma del DM 77 le centrali operative delle cure primarie avremo la centrale del 116 e del 117 la centrale del 112 quante centrali abbiamo ma chi sarà il regolatore di flusso? c'è da impazzire mica il cittadino può fare il giro delle sette chiese immaginate una richiesta che rimbalza da una centrale all'altra il 118 che deve essere il cardine il regolatore in ogni provincia del flusso delle richieste il dipartimento favorisce un equilibrio perché non è il government c'è fondamentalmente il governo verticale una governance c'è il comitato di dipartimento abbiamo previsto moduli organizzativi 4, maxi emergenze abbiamo visto trasporti speciali formazione, rischio clinico e quindi fondamentalmente la dimensione provinciale anche nei fatti si è dimostrata sul piano statistico essere quella che dove un 118 è provinciale e governa capillarmente quella provincia delle morti per infarto si riducono come pubblicato dal Sole 24 ore il comitato di dipartimento vede medici, infermieri e soccorritori stare insieme governare insieme non è il governo di un solo uomo è il governo di un gruppo che ci lavora le postazioni medicalizzate e infermierizzate devono essere uno in 60.000 il medico di emergenza riconosce un'unica matrice culturale comune che è la medicina di urgenza ma ha una sua specificità di ruolo non esiste il medico unico non c'è il cardiologo unico perché c'è l'emodinamista c'è l'aritmologo c'è l'intensivista così come c'è il medico pienamente legittimato di emergenza territoriale può fare tutti gli interscambi dell'universo ma la sua specificità di ruolo di contesto è di inquadramento in un organico specifico gli infermieri sono determinanti alla pari dei medici e alla pari degli autisti soccorritori non possiamo immaginare un 118 che non valorizzi come diceva la senatrice Castellone come tutto il suo DDL preciso una valorizzazione delle componenti professionali alla pari integrate per dare le migliori risposte ai cittadini noi riteniamo fondamentalmente e questo lo facciamo con l'orgoglio di un assisto 118 che dal 1997 produce scienza, cultura, lavori internazionali siamo praticamente con l'H-Index interessati a confrontarci sui grandi temi dell'emergenza a livello continentale e ci poniamo il problema dei problemi c'è una lettera molto particolare che la seconda guerra mondiale lascia alla storia quella tra il generale Montgomery e il generale Eisenhower poco prima dello sbarco in Normandia dove si chiesero tra di loro chi fossero dovendo sbarcare i primi destinati certamente ad essere uccisi si dichiamarono i sacrificabili ora non è possibile strutturalmente che per 30 anni il 118 che salva vite il 118 che ha salvato l'Italia dal Covid venga dimenticato non è possibile che noi chiediamo la figura dell'autista soccorritore il riconoscimento del profilo professionale dell'autista soccorritore e che lo riteniamo necessariamente inquadrato nella riforma del terzo settore con la possibilità però dice il DDL di assumere a tempo indeterminato e di dare garanzie e stabilità dignità professionale a migliaia di autisti soccorritori non è possibile che tutto questo trovi orecchie da mercanti non è possibile che ogni qualvolta c'è un'indenità ogni qualvolta c'è un riconoscimento vedi l'indenità dei medici del pronto soccorso e degli infermieri del pronto soccorso il 118 esce dalla porta non c'entra nemmeno eppure noi siamo quelli che hanno salvato e portato vive quelle persone lo dico nel Senato se il 118 si fermasse se il 118 si fermasse per 10 minuti sarebbe una catastrofe la gente morirebbe per strada nelle case si bloccherebbero tutti i trasporti primari e secondari sarebbe una catastrofe noi speriamo di non dover arrivare senatrice a creare il partito del 118 cioè a scendere in politica con un nuovo partito il partito del 118 per essere sistematicamente ignorati perché non ne possiamo più ogni qualvolta e ringraziamo la senatrice con i suoi emendamenti perché la senatrice continuamente ha fatto emendamenti fino a qualche giorno fa eravamo insieme a Roma per gli emendamenti ovunque c'è il riconoscimento di una risorsa allocata è certo che non riguarderà mai il 118 è una costante riproporzabilità che io definirei che sta per assurdo ora l'idea diventa che questa storia deve cambiare così come non può più andare avanti auspico pertanto che tutti i contributi per cui noi ringraziamo la senatrice che nascono dall'esperienza condivisa di tutti coloro i quali fanno i turni e non invece che interpretano l'integrazione funzionale con annessione e con invasione di campo vengano accolti perché sono i contributi di chi fa i turni di servizio di chi rischia la vita tutti i giorni e che si traducono per esempio in identità di rischio ambientale di rischio biologico che il Didiele Castellone prevede a riconoscimento le vite salvate sono per noi un onore noi non abbiamo scelto per avere più soldi di fare questo lavoro ma perché ci crediamo perché ci riconosciamo vocazionalmente in tutto questo è la vita che abbiamo deciso di vivere ma non per questo noi servitori dello Stato possiamo continuare a chiederci se lo Stato ci abbia ancora una volta dimenticati grazie Presidente vuoi dare tu la parola agli altri redatori sì darei la parola a Francesco Marino segretario nazionale della FIM 218 buongiorno a tutti grazie senatrice per continuare questa collaborazione che noi abbiamo iniziato già nella passata legislatura io rappresento una fetta di medici che lavorano sul territorio una fetta di medici che ha scelto come diceva il Presidente Balzanelli di lavorare sul territorio non è stato assolutamente un ripiego perché le opportunità che abbiamo avuto avuto noi sia per quanto riguarda il discorso del passaggio alla dipendenza ultimamente sapete tutti che nella finanziaria è stato previsto che i medici anche se non in possesso di specialità potevano partecipare ai concorsi beh secondo alcuni ci sarebbe dovuta essere una fuga di medici del territorio questo non è avvenuto quindi come stiamo dicendo da un po' di tempo non ci appassiona più lo stato giuridico del medico sull'ambulanza ci appassiona invece mantenere un servizio che sia all'altezza dei risultati raggiunti in questi anni un servizio che sia il migliore possibile dato ai cittadini il direttore Balzanelli parlava di circa 8 milioni di intervento all'anno in questi 8 milioni di intervento all'anno i dati non ci sono mai dati insomma andiamo avanti a estrapolarli in base a quello che ci dicono i colleghi delle varie regioni questi interventi il 10% sto parlando di interventi di invio sono interventi all'alta complessità quelli che vengono inviati col codice rosso dal 50 al 60% dati variabili però mi scuso ma non abbiamo dati certi sono codici di invio gialli il 30% sono codici di invio verdi una piccola quantità è classificata come codice bianco allora il problema di continuare a mantenere tutte e tre le professionalità sul sistema del 118 territoriale dell'emergenza io dico 118 perché ormai sono abituato così come sono abituati la maggior parte della popolazione perché quando si parla di 112 chiedono tutti quanti che cos'è questo 112 ma nel momento in cui hanno bisogno di un intervento in emergenza conoscono tutti il numero 118 118 allora perché bisogna assolutamente mantenere tutti e tre questi professionisti la valorizzazione degli autisti soccorritori gli infermieri a bordo delle ambulanze e io dico soprattutto il medico allora qualche tempo fa noi partivamo dalla esigenza di avere circa 6.000 medici sul territorio per coprire H24 le postazioni per coprire le postazioni con un mezzo di soccorso avanzato per noi per Agenas per SIS per la senatrice Castellone e quindi per gli altri che stanno credendo in questo progetto di legge un mezzo di soccorso avanzato per dare il massimo della possibilità a chi chiama il sistema dell'emergenza deve essere assolutamente composto da un medico da un infermiere e da un autista soccorritore tutte e tre le figure hanno un ruolo importante ognuno si integra con l'altro noi siamo contro quella che viene chiamata la task shift ci sono alcune associazioni di categoria anche medici purtroppo che stanno teorizzando una task shift spinta bene se voi pensate che quel 60% di interventi in codice giallo quindi in urgenza hanno comunque la necessità di essere valutati e quindi c'è la necessità anche di intervenire io capisco che la rianimazione la può fare anche l'autista soccorritore la possono fare anche i laici è previsto perché nel momento in cui si ha a disposizione un defibrillatore almeno la rianimazione cardiopolmonare la possono fare tutti allora purtroppo dico purtroppo non per sminuire le disposizioni legislative che danno la possibilità di fare diagnosi di impostare una terapia e sappiamo tutti quanto è importante iniziare una terapia nel minor tempo possibile parlo soprattutto delle patologie tempodipendenti lo stroke la rete IMA i traumi prima si imposta una terapia meno danni al paziente e quindi meno pesa sulla società perché nel momento in cui noi abbiamo qualcuno che ha necessità e ve lo dice chi ha usufruito vi parlo da da cittadino che ha usufruito del sistema dell'emergenza nell'Emilia Romagna mi trovavo lì per e ho avuto necessità di intervento sapete in prima battuta chi è arrivato una soccorritrice e un autista sono stato fortunato perché la collega che lavorava sull'automedica si era liberata e quindi mi hanno portato in un'emodinamica altrimenti la soccorritrice e l'autista mi avrebbero portato in un ospedale secondario io non so come che cosa sarebbe successo sarebbe fatto che è arrivata la collega e quindi che ha fatto diagnosi si è presa la responsabilità del trasporto diretto nella sala di rivascolarizzazione e sono qui a parlarvi perché poi durante il tragitto ho avuto anche un episodio di FA e quindi sono stato anche defibrillato e quindi voglio dire l'importanza di comunque avere la figura ho avuto fortuna presidente così come e questo lo dobbiamo evitare perché l'età media nostra la mia insomma siamo tutti quanti oltre i 60 e purtroppo man mano che aumenta l'età si è necessita anche dell'intervento medico quindi che cosa dobbiamo fare noi dobbiamo pensare a un sistema sostenibile che non è assolutamente sostenibile attraverso il sistema delle specializzazioni due anni fa il 60% dei posti è stato il primo anno in cui la scuola di specializzazione due minuti e concludo la scuola di specializzazione ha offerto oltre mille posti la scuola di specializzazione in medicina di emergenza urgenza solo il 40% sono stati occupati il 60% sono stati non sono stati occupati quest'anno nel 2023 di primo acchitto su 850 posti circa ne sono stati occupati 250 se noi pensiamo che il pronto soccorso oggi oggi ha necessità i pronto soccorsi hanno necessità di circa 6.000 medici non lo dico io ma non lo dicono nemmeno dei sovversivi insomma lo dice la Simeu lo dice la Nao che sono la Simeu la Società Scientifica la Nao un sindacato dei medici dipendenti pensate che cosa fra 5 anni 800 medici se si arrivano alla fine della specializzazione che quantità di posti possono coprire e concludo veramente noi fino all'anno scorso fino al 2021 quindi dati SISAC dati ufficiali abbiamo mantenuto sempre una quantità di medici convenzionati attorno a 3.000 medici convenzionati su tutto il territorio nazionale dall'anno scorso il numero ha iniziato a scendere l'anno scorso siamo passati da 2.950 medici circa siamo passati a 2.680 medici circa medico più medico meno se voi pensate che quest'anno ci sono dei colleghi che si sono dimessi e continueranno a dimettersi dal sistema dell'emergenza territoriale un esempio la regione Puglia su 540 medici di organico ne ha 300 e di questi 300 parecchi anche quest'anno lasceranno il servizio ma perché perché veniamo presi a schiaffi fatemi fare un passaggio sindacale dalla politica senatrice perché facendo lo stesso lavoro assumendoci le responsabilità e abbiamo dato prova di essere un gruppo altamente professionale durante l'emergenza del covid siamo stati dimenticati dalla politica tutti sono stati ristorati ma non è il quantum perché quello non ci interessa è un riconoscimento del sacrificio del lavoro che noi abbiamo fatto sono stati riconosciuti anche a chi non ha mai avuto contatto con i pazienti addirittura agli amministrativi mentre i medici gli infermieri e gli autisti soccorritori non hanno avuto nessun riconoscimento allora ci fa piacere che sia stata calendarizzata questa legge per quello che ci riguarda noi continueremo a lavorare su un settore che purtroppo dopo di noi non avrà più il ricambio per cui i senatrici vanno avanti con questa proposta di legge con la speranza che la politica si renda conto tutta di che cos'è il sistema dell'emergenza territoriale grazie grazie al dottor Marini allora purtroppo metto da ora in poi usiamo il timer perché alle due la sala si deve liberare io il consiglio di presidenza e vorrei provare a trarre le conclusioni alla fine degli interventi quindi cinque quattro minuti e mezzo dottore di domenica coordinatore dei gruppi di studio della SIS 118 quattro minuti però prima ringrazio do il buongiorno a tutti e ringrazio la senatrice Castellone perché il minimo lo dobbiamo avere se cortesemente mi passate il grazie una riflessione ad alta voce perché il disegno di legge ha da detto prima il presidente messo un accento particolare sui dipartimenti provinciali quindi che cos'è che avviene io vado velocemente e questo per ricordare a chi magari è corto di memoria un po' di storia perché tutto nasce con il DM70 su delle ipotesi che erano delle ipotesi esclusivamente di tipo cognitivo perché in realtà noi non abbiamo mai avuto e se provate a cercare dei dati non li trovate relativamente a che cosa ecco è sottolineato il rosso esigenza di razionalizzare le risorse e i costi la necessità di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio esigenza di rispondere all'aumento della richiesta di soccorso accorpamento delle centrali chi è che dice di no ad una cosa di questo genere è facilmente spendibile si capisce perfettamente linearmente ma poi che cosa accade c'è stato un metodo scientifico dietro questa valutazione o è stato un elemento di intuito ma il metodo scientifico si basa anche su elementi di intuito che però dopo vanno comprovati magari modificandoli scelta del 2015 giusto per così sempre il DM70 rete territoriale di soccorso è verde perché effettivamente è stata implementata in molte aree che cosa i percorsi diagnostico terapeutici le modalità di accesso rapido per alcune patologie di tempo di pendenza postazioni territoriali i 60.000 il famoso razio di 1 a 60.000 come è andata a finire in un manicomio perché non si sapeva che cos'era avanzato che cos'era avanzato non lo sappiamo tutt'oggi abbiamo delle difficoltà magari la SIS 118 l'ha spiegato un po' meglio e l'ha spiegato anche prima il presidente punti di primo intervento uno dei grandi fantasmi dell'opera in alcune zone che cosa ha fatto addirittura ha sopplito alla carenza attenzione perché il 118 è anche il tampone dei prontosoccorsi quindi questo non ce lo scordiamo il presidente il presidente prima ha ricordato una cosa diceva se si ferma il 118 che potrebbe succedere no io cito al presidente gli studi della Cergas Bocconi quando si è fermato il 118 i morti ce ne sono stati a centinaia dove regione Lombardia per esempio parliamo di covid quindi in realtà non andiamo su ipotesi ma andiamo su dati di fatto perdonate ma io come dire sto all'interno dei gruppi di studio sono il coordinatore e io dove stanno questi riscontri gli audit le valutazioni le attività del covid-19 come banco di prova di questi sistemi ce l'abbiamo una parte ce ne sono solo tre però peccato solo tre regioni su tutte le regioni italiane queste sono le pietre dello scandalo come le chiamo io i dati sono 102 si chiamano in vario modo perché i liberi consorsi c'è un modo diciamo diversificato di chiamarli ma sono questi le centrali operative vennero ridotte da 103 vedete 102 103 solo perché una è relativa a una città meridionale che si esce in due anche se la città era una sola comunque si taglia il 31% è l'epoca dei tagli si tagliava tutto post diretto eccetera poi i risultati li abbiamo visti praticamente con il covid-19 mentre il dpr 92 il dpr che aveva istituito il sistema del 118 aveva ben chiaramente valutato che dovesse esserci una centrale operativa su base provinciale perché perché su base provinciale funziona lo stato italiano io non mi risulta che esiste la centrale dei vigili del fuoco del centro Italia cioè non mi risulta poi magari mi sbaglio i danni venne creato in quel momento di grandissimo entusiasmo la famosa centrale la mega centraluna di Palmanova dove affluirono tutte le centrali operative che successe un disastro questo disastro venne a suo tempo valorizzato dall'onorevole Stabile che è un medico è una collega quindi a questo punto si è visto e qui lo cito perdendo qualche secondo vediamo se ci sto le attese non hanno dato i risultati sperati proprio perché non c'era stato uno studio antecedente vado velocemente andiamo rapidamente ad oggi 118 zero finanziamenti di zero il PNRR io non lo voglio criticare assolutamente però finanzia che cosa le centrali operative territoriali che sono dei call center a livello locale veramente un minuto e ci metto un attimo guardate i numeri si era partiti all'inizio con 600 cot adesso si sta a 480 per una valutazione nostra però quello che vale poco se arriviamo a 150 sarà grande veramente un risultato notevole guardate le persone che sono implementate all'interno allora io vi faccio una domanda perché noi abbiamo la teoria e la pratica la teoria è quella che abbiamo visto adesso con questa serie di implementazioni abbiamo la pratica che cosa accade con qualcosa di particolare qui è saltata la parte grafica London Ambulance Service 12 anni fa portammo l'esperienza del London Ambulance Service che è in grado di dare che è 118 sostanzialmente di Londra Londra vi ricordo è una città grande sono 5 milioni di abitanti quindi quasi quanto il Lazio da una risposta a 360 gradi ovvero sia il paziente che chiama ha la possibilità di avere una risposta come guardia medica come cotta come tutto dobbiamo prendere la valutazione di queste situazioni che sono delle situazioni ottimate quando partì il primo anno la London Ambulance Service inviando visite appropriate ai pazienti risparmiò un milione di sterlino quindi tanto per dire spicci allora siamo in un periodo di carenza di risorse economiche e di personale che si fa? si decentra? cioè mettiamo per 10 ospedali un ginecologo o magari li concentriamo in due ospedali solamente questo solamente un qualcosa di dire perché il sistema provinciale oltre quello che è stato già detto oggi la senatrice Castellone è una ricercatrice quindi lo sa quello che sto scrivendo c'è necessità di qualità del dato per poter valutare i decisori politici con cui noi spesso ci arrabbiamo come è stato detto prima non hanno i dati io ho fatto parte sempre per il 118 di quella che era i piani di re intropresso l'agenas il problema più grande era avere dati di qualità e dati valutabili vado velocemente il sistema provinciale della centrale 118 non ve la sto a glorificare perché sennò la senatrice Castellone mi picchia sfide del sistema sanitario le conosciamo altrettanto bene abbiamo solo due cose che dobbiamo tenere scarsezza delle risorse economiche e anche di quelle che sono le strutture l'infrastruttura vera e propria e la scarsezza numerica del personale perché se oggi si decide di aprire i numeri di fare le specializzazioni quello che volete a parte è difficile che la gente ci vada perché ambienti difficili lo sappiamo non attirano colleghi e non attirano personale scarsezza numerica del personale ci vogliono 10 anni per fare un medico anche un medico generico ultima cosa gruppi di lavoro per me va bene tutto io con piacere attendo sempre che cosa le critiche io amo più le critiche che gli applausi però che le critiche avvengano su basi non autoreferenziali perché io ultimamente leggo non dico le regioni perché sarebbe una scortesia ma leggo come va benissimo poi vai a vedere i dati non li trovi allora io ho fatto qualità per un po' di tempo in Ares 118 dove tuttora lavoro quando tutto andava bene il senatore Castellone lo sa vuol dire che non va bene a niente grazie Carlo Spirito Feder Consumatori buongiorno a tutti io sono molto onorato mi sentite? sono molto onorato di essere qui per la presentazione di questo disegno di legge che ha ad oggetto una materia che è molto a cuore della mia associazione e che è stata anche oggetto di numerosi approfondimenti da interni ora il punto fondamentale che vorrei dire è che io sono certo che è possibile portare a termine questo processo di riforma ma solo nei limiti in cui dati problematiche che hanno una loro oggettività vengono riconosciute per quel che sono e abbiano come stella polare di questo processo di riforma il cittadino nel suo bisogno di soccorso e nei suoi diritti nel momento del soccorso invece quella che è la situazione attuale è una situazione di assoluta confusione questa confusione come dire rende già di per sé lo strumento legislativo lo strumento più indicato come luogo dove possono confluire tutti gli interessi coinvolti in questa delicatissima materia per prevenire una soluzione il più possibile condivisa perché nessun progetto di riforma potrà mai reggere se non vi è una condivisione di tutti gli operatori che a vario titolo sono coinvolte nell'attività di soccorso vorrei dirvi che la confusione è nata da due elementi fondamentali una privatizzazione strisciante del servizio sanitario nazionale perché voi quando vedete gli hobby che sono iper affollati di che cosa state parlando se non della soccombenza di prestazioni non elettive di emergenza rispetto alle prestazioni elettive all'interno dell'ospedale e poi ovviamente la svolta federalista siamo riusciti a trasformare un paese di pochi chilometri quadrati in una pluralità di sistemi sanitari cosa che non ha nessun senso anche dal punto di vista dell'efficienza economica se è fondamentale l'efficienza economica e in questa efficienza si era pensato ad utilizzare un sistema di gestione tipico non del sistema sanitario che è il sistema ABNSPOC ovvero del sistema fondato sui centri di specialità che nulla a che vedere come elemento prioritario con l'esigenza di salvezza e quindi col tempo che è l'elemento qualificante delle prestazioni tempo dipendente nell'emergenza e urgenza e questo è un elemento fondamentale che sembra essere stato dimenticato io vorrei dirvi che vi sono due indicatori che in questo momento verificano secondo il servizio sanitario nazionale e la qualità del sistema un indicatore è l'indicatore D09Z che rientra tra gli indicatori core che vengono utilizzati per valutare le prestazioni del sistema sanitario nazionale ebbene questo valuto ai tempi ma a prescindere dal mezzo di soccorso che arriva a soccorrere il cittadino e poi abbiamo un ulteriore indice che non occorre in questo caso quindi non viene utilizzato poi per valutare le prestazioni dei servizi sanitari regionali che è il D08C il quale invece individua poi quale tipologia di mezzi vengono utilizzate sui soccorsi primari ebbene qui vi troverete con stupefacenti dati che attestano come regioni che nella propaganda vengono portati come portatori dei sistemi qualificati che invece si ritrovano a soccorrere nel momento del bisogno con mezzi non di soccorso avanzato la scheda tecnica di questo indicatore è molto importante perché già qualifica il mezzo di soccorso avanzato un mezzo con medico e infermiera a bordo che poi è uno degli elementi organizzativi di principi organizzativi di sistema che il disegno di legge propugna cioè il segno di legge ha il pregio di chiarire che l'adeguatezza della prestazione sanitaria nell'emergenza urgenza si qualifica per due elementi il timing è fissa dei tempi minimi inderogabili per il soccorso avanzato in territorio urbano ed extraurbano e questa è una garanzia fondamentale del cittadino perché ci dice anche l'esattezza della prestazione in termini di tempistica e poi individua in termini qualitativi di chi deve venire nell'attività di soccorso è il pregio anche di chiarire che quando vi sono prestazioni sanitarie inderogabili queste devono essere rese sul territorio questa idea dell'ambulanza trasformata in un trasportatore di Amazon che prende il cittadino e lo porta in un altro posto per la cura deve finire perché questa è criminalità questo è abbandonare il cittadino in aree che poi sono come pronto soccorso e che a sua volta vengono abbandonati in questa loro eseguità il pronto soccorso determina problemi di ordine pubblico ma voi lo sapete che la sanità pubblica nasce come una costola del ministero degli interni da sempre sanità pubblica e ordine pubblico sono collegati un dirigente sanitario responsabile non può non tener conto che l'elemento sanitario ha delle ripercussioni di ordine pubblico la maggior protezione che si può dare agli operatori sanitari è qualificare questo servizio con l'elemento organizzativo che è l'elemento fondante del sistema e in questo anche il disegno di legge ha un grosso pregio sto finendo perché sostanzialmente rimette al team cioè non ha la visione del singolo del genio della situazione ha l'idea di un team che collabora per realizzare un sistema efficiente e in questo team si parte da un dipartimento che come la struttura organizzativa più naturale per qualsiasi servizio sanitario a livello aziendale sia ospedaliero che territoriale si finisce con un'unità complessa che diventa la centrale operativa e poi ci sono i team i team devono essere gli spoke cioè gli elementi che già di per sé sul territorio sono in grado di individuare dove il cittadino nell'emergenza deve andare e non si tratta solo della rianimazione cardiopolmonare perché per salvare una vita bisogna saperla direzionare verso il centro di specialità rianimare una persona e indirizzarla verso il posto sbagliato è totalmente inutile e allora o facciamo questo o tanto vale chiudere tutto e non l'abbiamo più questo servizio perché significa solo buttare soldi senza salvare vite umane in questa cosa ovviamente del tempo è fondamentale l'accesso diretto al servizio al 118 ora bisogna dirlo per l'ennesima volta perché sembrerebbe non basti mai non c'è nessuna norma di carattere europeo che dica che il numero 118 debba sostituire il numero 112 debba sostituire il numero 118 questi due numeri possono assolutamente convivere anzi il potenziamento dell'uno può aiutare a potenziare l'altro in una dotazione di mezzi che non deve essere vista in termini ragioneristici perché i conti dell'emergenza urgenza non si fanno sul conto ragioneristico nell'immediato perché se no a questo punto il sistema non funziona si fa nell'utile socio-economico indiretto queste vite salvate queste famiglie salvate questi soggetti recuperati quanto valgono da un punto di vista socio-sanitario questo è il punto fondamentale quindi sono sicuro e convinto che con l'apporto di tutti con un tornare un po' a tutti indietro per fare tutti insieme un passo avanti verso il cittadino potremmo fare sicuramente cose eccezionali grazie 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 al dottor Carlo Spirito adesso farei fare un brevissimo saluto al dottor Roberto Pieralli rappresentanza di Snami al dottore Emanuele Cosentino in rappresentanza di Fismu io però purtroppo vi devo lasciare perché sta partendo sta iniziando il consiglio di presidenza e quindi devo esserci lasciami Roberto scusa solo un minuto per intanto ringraziarvi salutarvi promettervi che questo discorso questa la presentazione di oggi è l'inizio o anzi il continuo di un percorso che già avanti in Commissione Sanità faremo le audizioni arriveremo come ha detto il Presidente a un testo di sintesi anche se in realtà questo testo che abbiamo presentato se ricordate già una sintesi dei diversi disegni di legge presentati nella scorsa legislatura dove i punti di distanza riguardavano due cose in particolare uno il personale è evidente che per noi vanno valorizzate e preservate tutte le figure professionali medici autisti soccorritori infermieri ed è anche evidente come ai medici vada riconosciuta un'indennità che è stata riconosciuta ai medici di pronto soccorso indennità di rischio biologico indennità come diceva il Presidente di rischio ambientale va riconosciuta la figura dell'autista soccorritore quindi noi riteniamo che il personale in parte debba essere dipendente come tra l'altro previsto per tutti gli enti del terzo settore che nel 50% devono stabilizzare il personale quindi la valorizzazione del personale l'altro punto importante è l'integrazione sempre più stretta tra ospedale e territorio io non credo nel modello che vuole che siano solo i medici del pronto soccorso ad operare nel 118 non può funzionare vediamo che già mancano medici nel pronto soccorso come si può pensare che sia quel personale a intervenire anche nell'emergenza urgenza territoriale quindi bene creare un anello di congiunzione lasciare la porta aperta se ci sono medici del pronto soccorso che vogliono anche fare dei turni sulle ambulanze e viceversa ma non possiamo pensare che sia il pronto soccorso a gestire il 118 come se il 118 fosse una succursale quando invece ha bisogno di una sua identità scusatemi per questo tempo che ho rubato magari il senatore Lisei può chiudere a posto mio dopo gli ultimi due saluti vi prego di chiudere entro dieci minuti altrimenti anche se io non ci sono vi cacciano comunque dalla sala cercherò di essere telegrafico innanzitutto grazie alla senatrice Castellone per l'occasione e per questa presentazione del decreto della proposta di legge cercherò di essere telegrafico sono assolutamente concordo col presidente Balzanelli bisogna rifondare le architravi del sistema il sistema dell'emergenza territoriale è un sistema che ormai è diventato a macchia di leopardo e non c'è un sistema identico nemmeno all'interno della stessa regione io vengo dalla regione Emilia Romagna il sistema che c'è a Bologna è diverso da quello che c'è a Reggio Emilia è diverso da quello che c'è a Piacenza e oramai non è più garantito avere lo stesso livello di risposta tra un cittadino che abita in una parte di una regione o addirittura nella stessa provincia in una parte cittadina piuttosto che in una montana che abita magari sulle isole o in territori distinti per cui bisogna rimettere i principi di base bisogna rimettere dei parametri che siano matematici e su cui non si possa giocare rispetto al significato dei termini il metodo di soccorso avanzato da FNOMCEO in giù tutti sappiamo che può essere una sola cosa inutile che ci giriamo intorno e questa è la base per garantire quel principio di equità della risposta che tutti i cittadini si devono vedere garantiti sul personale carente mi sento di dire che bisogna prendere un po' le esperienze noi siamo riusciti a invertire il trend non so come dire noi siamo riusciti mentre tutti lo perdevano proprio cominciando a inserire delle politiche organizzative diverse senza neanche fare contratti mirabolanti ad avere un ingresso siamo addirittura arrivati in una provincia ad avere il 53 in ingresso rispetto a tutti gli altri che ne hanno persi invece per cui probabilmente se si puntano i piedi sui principi se si sta in piedi sui principi il trend lo si inverte anche perché oggi e mi ricollego a quello che è appena stato detto rispetto ai medici di emergenza urgenza e pronto soccorso noi stiamo vedendo tantissime richieste di medici che hanno seguito il percorso di specializzazione in anestesia e animazione in medicina di emergenza urgenza che chiedono di venire a frequentare i corsi di donità all'emergenza territoriale perché laddove sono fatti bene laddove sono correttamente impostati laddove sono culturalmente pesanti danno una formazione e un'esperienza professionale che il medico vuole avere soprattutto nella prima parte della sua carriera professionale e il dibattito con le altre professioni è al 100% abbracciato anche oggi qui in rappresentanza degli islami noi siamo convinti che si debba lavorare tutti assieme e che ci debbano essere degli standard qui dobbiamo parlare delle architravi degli standard minimi perché io credo che le pattuglie della polizia abbiano più o meno tutti lo stesso materiale credo che i vigili del fuoco abbiano più o meno tutti gli stessi mezzi tutti gli estinguenti io e la dottoressa Bellati che lavora a Reggio Emilia piuttosto che un altro collega che lavora in un'altra provincia non abbiamo neanche gli stessi farmaci nonostante le linee guida scientifiche siano uguali dappertutto quindi se vogliamo garantire un minimo di decoro su uno dei sistemi sanitari pubblici universalistici tra i pochi al mondo che hanno dimostrato di funzionare perché potevano funzionare molto meglio di come li abbiamo fatti funzionare ma hanno funzionato e hanno prodotto dei risultati tangibili noi ovviamente possiamo prendere questi esempi e diciamo alzare l'asticella e metterla almeno come standard di base per tutti per cui appoggiamo pienamente questa proposta e vi ringrazio per l'opportunità di questo breve intervento e a presto insomma nei prossimi incontri Allora solo un paio di minuti per me che vengo dalla Sicilia la regione più lontana praticamente non avendo letto tutte le proposte di iniziativa e di legge che sono state presentate sull'ordine del 118 sicuramente la proposta della senatrice Castellone è quella che è indispensabile approvare da questo punto di vista è l'unica che riesce a mantenere una struttura e un'organizzazione in un sistema che deve avere una sua autonomia una proposta che consente una strutturazione in aree in in un'area che ti permette di rimanere vicino al cittadino e quindi non quelle mega centrali che non riescono a seguire sul territorio le loro risorse è una proposta che tiene conto della presenza di tutto il personale del 118 compreso comprese quelle degli autisti soccorritori su cui viene finalmente proposto il ruolo definitivo e quindi è l'unica proposta che ci consente di mantenere la struttura in maniera funzionale chiaramente non dico altro per non sovrappormi a quanto detto da chi mi ha preceduto sul quale sono totalmente d'accordo quindi ringrazio la senatrice Castellone per questa proposta grazie a tutti ovviamente ci saranno altre occasioni per vederci perché il percorso come sapete dei disegni di legge è lungo e tortuoso speriamo non come in passato perché se no non saremo qua a discutere di questo ma sarebbe già stato approvato nelle precedenti legislature però insomma confidiamo che in questa legislatura si possa tagliare il traguardo e lo si possa tagliare nel migliore dei modi grazie e grazie ancora a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti